Amici, buonasera. Annuncio con piacere e con orgoglio che ho terminato la stesura del libro Pacciani Connection, che è la riedizione di quello che scrissi nel 1993, ben 31 anni fa, a dove già dimostravo che il contadino di Mercadale Valdipesa era vittima di un imbroglio organizzato al Micron, che c'era stato l'intervento di un soggetto ancora non individuato dalla magistratura, denominato dalla stampa come il burattinaio o il grande accusatore o il demiurgo, e questo libro anticipò di fatto le motivazioni per le quali Pietro Pacciani venne assolto. Ho scritto questo libro per cinque motivi ben precisi, motivi di giustizia, di verità, di rispetto della scienza della vittima e delle vittime e del diritto, e soprattutto perché il popolo italiano non deve essere preso in giro da soggetti che riescono a determinare esternamente le indagini. Il libro è ordinabile tramite Amazon. Vi ringrazio.